Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a vedere Reaction Reaction Zero iscritti Che ho iniziato a vedere questa qua Vediamo Mia madre mi ha insegnato a bere Non dall'occhio, perché io mi capevo dall'occhio Cioè, a caso mai facevo il cretino Ragazzi, non ti voglio credere Cioè, rica, rica Secondo che non si vede, stavo già con l'occhio Oddio, ragazze, siamo arrivati Tre like, tre ragazzi, tre like Questi sono cinque Eh no, allora, questo cos'è? Un dinosauro? Per caso? No, perché io mica lo so No, perché siamo arrivati a così iscritti Oh mio Dio Non avevi capelli Allora, scusa, che cazzo ci fai qua in i miei video? Scusa, se lo devo mettere sempre Scusa, a scuola ti presevano in giro Dicevano Che sei Che sei Una che non hai capelli Ora non mi è venuto niente Il prossimo video Oh mio Dio Oh mio Dio Oddio 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 ragazzi Zero iscritti C'è Così siamo Così iscritti No No Questi sono cinque Così iscritti Oh Ti abbia detto Che in quelli Non so cinque E' uno Oh Scema Ti svegli Ma Dio Sto piangendo Ma Dio Sono troppo Non Capisco Ma No Ma Da Ma Ma Nessuno Capisce No No Affan Curva Ma 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 Su Perché Non Tutti Non Si Accord Che E' Lo Ho detto D'altra voce Scusate No Ma Comunque Sono Bene Solo Che Mi Stavo Stavo Quare Perché Sono Proprio E' Proprio Oddio Oddio Così Iscritti No Questi Sono Cinque Questa Il mio Miglior Amico Secondo Me Tu Devi Fare Non Lo So Ma Sei Pazza Quindi Devi Andarti A Fare Qualcosa Perché Sei Una Coglione Fida Iscritti C'è Io sto A piangere Io sto A piangere Lo vedete Come sto A piangere Oddio Ho Vangula Eh Non ho visto Che sto A piangere C'è Madonna Sono troppe Molto Allata Sinceramente Addio Al prossimo Video Questa Ha Problemi Mentali Abbiamo Risolto La cosa